dal più piccolo dei semi nasce il sogno di campi gialli e luminosi l'alba ci risveglia e ci dà la certezza che avremo davvero un raccolto sano e abbondante più protezione significa tranquillità e una miglior gestione dell'azienda significa minore impatto sull'ambiente e sapere che il tuo duro lavoro i tuoi investimenti e le rese dei tuoi campi sono al sicuro perché protetti da una minaccia come la sclerotinia ti darà sicurezza stabilità soddisfazione e sostenibilità protector è uno strumento aggiuntivo per aiutarti a ottimizzare i trattamenti sulla tua cultura permettendoti di limitare gli investimenti di controllo solo se la pressione della malattia è molto alta garantendoti più sicurezza tranquillità e profitto per un mondo più sostenibile e un miglior raccolto nella tua azienda il carattere pioneer protector per la tolleranza alla sclerotinia è ciò di cui sono fatti i sogni coltiva con sicurezza e dormi tranquillo